Nome? Andrea Jacopo Ruolo? Non lo so neanche io sinceramente Guardia, Ara, Pivo Perché si è a scanzo? Perché credo in questo progetto è stata insieme a Jacopo e Michele Zinesi ci siamo anche regati al gruppo Siamo venuti qua per vincere ci viene un po' difficile ma ci stiamo provando Da quanto tempo ho giocato insieme? Da più di 5 anni Che compagno è? Jacopo è molto serio esigente in quello che chiede però è anche un gran scassavarone in quanto quando non si fa quello che si vuole si incazza con chiunque Ferro è molto molto easy piace prendersela bella easy proprio però alcune volte arriva a essere troppo 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 superficiale e quindi mi fa incazzare Chi è il più forte? Io chiaramente ferro easy Chi tira meglio da 3? Io chiaramente Ma quanto male? Chi corre meglio in allenamento? Tutta la vita Jacopo Non dico niente che è meglio Un pregio è un difetto di ferro Sono un ragazzo che trasmette sicurezza negli altri e un difetto che a volte effettivamente sono troppo superficiali quello che piace Chi si impegna a un casino gli piace un sacco giocare chiaramente tutta e difetto ogni tanto un po' troppo ladro ha le mani partite a prendere i punti da 3 su Un pregio è un difetto di Jacopo? Un pregio come ho detto prima è uno molto intenso sia in allenamento che in partita il difetto questa intensità a volte si trasforma in diciamo quasi frenesia La grinta e la voglia di vincere il difetto mi arrabbia un po' troppo in tanto Chi è il più bello? Jacopo sicuramente visto che naso Eh però il mio naso combatte bene però il ferro becca di più Qual è il tuo approccio con una ragazza? Ferro? Oserei dire quasi la scivo Diciamo che la classica ha detto meglio chiedere il perdono che chiederebbe permesso Io invece sono molto più tranquillo io temporeggio Un commento sul vostro vecchio compagno non cattuale Michele Zinesi post post ok sufficiente Simulatore Meglio Zine o Zanchi? Zine Zine Poggio o Mango? Poggio Mango Tex o Yago? Quindi non saprei cosa dire Io Ferro o Cinghio? Ferro Cinghio Beppe o Lele? Lele 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 Luca o Kevin? Kevin Tutte e due Eeeeeee Omar o Noto? Noto Omar Siete i più belli della squadra così dicono Volete fare un saluto alle nostre tifose? Ciao ragazze venite a trovarci quando volete Ci aspettiamo Dai salutatevi Ciao bestia È una promessa per la partita di giovedì? Vinceremo sicuramente Assumiamo tutti Tocchiamoci le palle Dai